oh tu vai negroni come al solito per te eccoci di che video poi eccoci qua sta stava la presentazione cazzo Mirko che è venuto a averci aspettato ho fatto il sistemone allora oh io ecco bravo sei sistemone bravo bravo anche a fare i miei limiti porca di quella sono due gigi qua oh fra i due gigi sono troppi gigi milioni di smadonne c'è smadonna una due a quella smadonnata una cazzo scaccia la mia vita ragazzi rischiamola scomunica c'era tutto meno che forse la gnocca forse una due basta ti confetti che credo quella ma anche sempre con gli autogol bisognerà rimediare ma ci penserà Silvio Berlusconi un salutone dai tuoi Alessandro scomali ragazzi da Zebra e da Michele Negroni eccoci e alla prossima ciao 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 ciao